Eccoci con Davide Nicotra dell'LCS, questa vittoria è molto importante perché conservate il primo posto, chiudete in bellezza, aspettate i sorteggi, però che partita è stata? Una partita veramente bella, giocata ad alti ritmi, noi non aspettavamo altro da settimane, soprattutto perché avevamo il dente avvelenato dall'andata che sappiamo com'era finita e quindi un bravo ragazzo alla dirigenza e a tutti. Quindi le motivazioni a questo punto mi dici che arrivano dalla partita d'andata e non dal fatto che c'era Peppe Mascara in campo? Ma Peppe Mascara sappiamo che è un grande giocatore quindi gioca qui così per divertirsi diciamo, noi sicuramente l'andata ha fatto tanto perché quel 4-0 ci ha pesato, sappiamo noi che siamo praticamente una squadra che deve comunque sempre vincere perché la nostra dirigenza vuole questo quindi il 4-0 ci pesava tanto. Senti, invece la tua prestazione, perché abbiamo visto che hai fatto due bellissimi gol a inizio partita, insomma eri anche uno degli accreditati per la palma di migliori in campo, sei contento penso della tua prestazione e anche della squadra naturalmente? Sicuramente, in primis metto la squadra, poi metto la mia prestazione, ho iniziato bene personalmente, poi sono un po' calato però ci sta anche perché comunque ho fatto tutta la partita, all'ultimo ero un po' stanco, però grazie allo Turco che poi è entrato e ci ha dato una grande mano in attacco veramente da elogiare questo ragazzo che ricordiamo che nelle altre partite ha giocato addirittura in porta. Senti, quanto ci credete a questo punto alla vittoria finale? Siamo con i piedi per terra, questo è importante e possiamo dire la nostra sicuramente. Grazie a Davide Nicota. Buonasera, grazie, arrivederci.